Papa Francesco ha ricevuto stamattina Mohamed Monshef Marzouki, Presidente della Repubblica Tunisina. Nel corso dei colloqui sono stati passati in rassegna temi di comune interesse, la promozione della pace, del dialogo interreligioso e dei diritti umani, con particolare riferimento alla difesa della libertà di coscienza e della libertà religiosa. Si è parlato anche del rifiuto di ogni forma di estremismo e di violenza. È stato rilevato l'impegno della Chiesa Cattolica in campo sociale, sanitario ed educativo, a servizio di tutti i cittadini tunisini, soprattutto dei più poveri e bisognosi. Infine sono state esaminate alcune questioni di carattere internazionale e regionale, con speciale attenzione per la situazione nel bacino del Mediterraneo.